Bene, buongiorno a tutti. Siamo con Alfredo Balena, direttore delle relazioni esterne di Adriatic LNG. Si parla oggi di ruolo del gas naturale per l'Italia e per l'Europa nel 2023. Partiamo da una domanda che è attualissima. La riaccensione del conflitto israelo-palestinese ha portato a uno scombussolamento internazionale e a un nuovo innalzamento dei prezzi del gas naturale. Questo preoccupa molto i cittadini anche per gli approvvigionamenti europei e quindi le chiedo innanzitutto qual è la situazione generale attuale e in seconda battuta, visto che non è finito ancora il conflitto in Ucraina, da dove viene il nostro gas ora che la Russia non è più il nostro fornitore principale? Sicuramente questo nuovo conflitto accende nuove tensioni e stress a tutto il mercato internazionale del gas. Nel 2023 le nostre forniture dalla Russia sono scese sensibilmente e infatti per quanto riguarda l'Italia ad oggi dal 40% che era il rifornimento da parte della Russia siamo arrivati a un 5%. Abbiamo utilizzato altre fonti, questo ennesimo conflitto ci porta a riconsiderare alcune nostre posizioni soprattutto per il gas che arriva dall'Algeria e dalla Libia. Devo dire che la posizione italiana è abbastanza solida, l'Italia ha fatto dei bei investimenti in infrastrutture, come sapete c'è un nuovo rigassificatore ma ha anche diversificato le forniture. Certo è che dobbiamo guardare con molta attenzione al prossimo inverno sperando che non ci siano delle nuove crisi dal punto di vista di approvvigionamento del gas per l'Italia e per l'Europa. Già, invece il conflitto israelo-palestinese come incide sul prezzo del gas a livello internazionale? Preoccupa davvero anche voi che maneggiate la materia quotidianamente? Ma diciamo che per quanto riguarda l'Italia da quella zona non avevamo grandi e importanti forniture, ci possono essere delle ripercussioni sicuramente a livello internazionale, soprattutto se ci dovesse essere un'estensione del conflitto che va a toccare anche altri paesi. Come dicevo Algeria e Libia sono due importanti fornitori dell'Italia, solo per dirvi che attualmente nel 2023 fondamentalmente oltre il 35% delle nostre forniture arrivano dall'Algeria. Quindi diciamo in tutta quella zona medio orientale e Africa del nord è comunque una zona di estrazione e produzione di gas e quindi un'estensione del conflitto potrebbe portare dei seri problemi di approvvigionamento in tutta Europa. E adesso per parlare delle questioni più nazionali con l'inverno che arriva, il riscaldamento cominciamo ad accenderlo anche noi ogni giorno sempre con più fatica, con più apprezzione per la bolletta che arriva. Ecco come si prospetta la stagione invernale per le forniture di gas in Italia? Ma devo dire che il sistema è abbastanza preparato ad affrontare anche un inverno freddo, anche un'economia che tira, sapete tutti che i consumi energetici sono molto in inverno, sono legati alle temperature e a quanto l'industria, la produzione industriale tira e assorbe energia. Gli stoccaggi sono pieni di gas, sono pieni al 96% e quindi questa è sicuramente un'azione importante che l'Italia ha fatto e quindi in caso di crisi o mancanze di prodotto da qualche fonte di approvvigionamento, gli stoccaggi sono pronti ad intervenire e questo è sicuramente un buon bilanciamento sia per quanto riguarda una stabilità di prezzi che per una sicurezza delle forniture. E dobbiamo dire che il ruolo del gas naturale liquefatto è importante con i rigassificatori che stanno lavorando a pieno regime in questi ultimi anni e quindi sono tutta la capacità dei rigassificatori impegnata, così come il gasdotto che porta gas dall'Azerbaijan e quindi dovremmo essere in grado di sostenere anche eventuali picchi di freddo, di produzione industriale o di gas naturale liquefatto che viene assorbito e dirottato dai mercati asiatici se dovessero tirare molto l'economia dei mercati asiatici. Quindi devo dire in sostanza siamo abbastanza tranquilli di poter gestire un po' tutte le situazioni che si dovessero presentare nel prossimo inverno. Intanto è impressionante come a due passi da casa nostra a largo di Porto Levante ci sia così tanta internazionalità, così tanta delicatezza anche negli argomenti, come siamo legati a questioni a reti internazionali. L'ultima domanda che le volevo fare, dottor Palena, è qual è il ruolo del gas naturale liquefatto in questo quadro internazionale? Beh direi che è diventato fondamentale il gas naturale liquefatto perché lo possiamo importare da tanti paesi e quindi non siamo legati come il tubo che parte dalla Russia o parte dall'Algeria o parte da Libia o parte dai mari del nord e quindi qualsiasi problema geopolitico o tecnico vanno ad incidere sostanzialmente nelle forniture. Il gas naturale liquefatto lo importiamo da tanti paesi e è estremamente flessibile il mercato e quindi molto liquido dal punto di vista di mercato. Questo ci aiuta tanto, ecco perché il mercato italiano ha puntato molto sul gas naturale liquefatto. Un nuovo rigassificatore è stato fatto a Piombino e un altro si sta progettando su Ravenna. Il nostro impianto di Adriatic LNG è diventato oramai la terza fonte di approvvigionamento per il mercato italiano, quindi importiamo circa il 15% del mercato e quindi un ruolo importante. Per noi è una sfida poiché stiamo viaggiando alla massima capacità e dobbiamo continuare ad essere affidabili e lavorare in sicurezza per tutto questo periodo appunto per assicurare al mercato italiano l'energia di cui ha bisogno. Bene, io la ringrazio molto per il suo intervento nella nostra trasmissione, saluto gli ascoltatori, un saluto da Katia Redia e da Alfredo Balena e grazie a tutti voi. Buona giornata. A voi. A voi.